Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vedremo insieme cosa succede dopo aver raccolto tutte le rune in Minecraft Dungeon. Quindi una volta che avete seguito tutti i tutorial, quindi raccolto tutte le rune, andate qui e raggiungete la piattaforma dove vanno posizionate tutte le rune raccolte. Per sbloccare un passaggio segreto che vi ricompenserà lautamente. Quindi come potete vedere ho posizionato tutte le rune, ho sbloccato il passaggio e dentro mi attendono questi tesori. Che come potete vedere sono tante gemme, un paio di armi e questa praticamente. Il Dungeon segreto. Quindi grazie alle otto rune ho la possibilità di accedere ad un nuovo dungeon.